Cambiare la finanza per cambiare l'Europa a Firenze torna per la quarta edizione Novo Modo, il festival dedicato alla sostenibilità e le nuove economie, il primo e il due dicembre a Firenze. L'iniziativa promossa da Fondazione Finanza Etica con il patrocinio della Regione Toscana è stata presentata dall'assessore regionale Vittorio Bugli e dal direttore della Fondazione Finanza Etica Simone Siliani. Durante la due giorni si parlerà di sostenibilità ambientale, nuove economie e finanza etica. È una finanza che non guarda solo a concedere credito o a fare risparmio ma che si preoccupa di andare a vedere se le iniziative finanze sono iniziative compatibili con un interesse generale quindi rispettose dell'ambiente, rispettose del lavoro, rispettose dei diritti. Durante il festival sarà presentato il primo rapporto sulla finanza etica in Italia e in Europa in cui sono state messe a confronto 21 banche etiche con le 15 banche sistemiche d'Europa dimostrando come su quasi tutti i parametri, patrimonio, prestiti, depositi la finanza etica dia maggiori garanzie di sostenibilità e migliori performance di quella sistemica. Cioè chi fa più banca? A questo punto le banche etiche, naturalmente con volumi minori ma questo è importante perché le banche nascono non per giocare in borsa non per scommettere i soldi dei cittadini ma per finanziare l'economia reale attraverso i risparmi anche dei cittadini. Dobbiamo tornare un po' ai fondamentali, questa è un po' l'idea della finanza etica che appunto non è più una nicchia perché rappresenta il 5% del PIL europeo. Appuntamento con un nuovo modo all'ex fila connessioni metropolitane il primo e il 2 dicembre a Firenze.